con una mossa a sorpresa la wwe ha deciso che assegnerà il vantaggio nei wargames femminili attraverso un sondaggio già aperto sul suo sito web ufficiale team bianca o damage control se volete votare vi lascio il link nella descrizione del video attraverso un breve video pubblicato su facebook l'holofamer the great khali ha annunciato la nascita del suo secondo figlio ragazzi ricordatevi di iniziare i vostri acquisti su amazon a maggior ragione ora che ci sono i 10 giorni del black friday dalla mia vetrina amazon trovate il link nella descrizione di tutti i video che pubblico thank you la wwe ha messo in vendita sul suo shop ufficiale la legacy collection dedicata a bray wyatt ed eccola qui ci sono magliette maschere felpe e anche dei bellissimi quadri commemorativi tra l'altro credo che i proventi di questi oggetti andranno alla famiglia dell'atleta come dichiarato dalla federazione alla scomparsa dello stesso la wwe ha reso noto che nella prossima puntata di raw drew mcintyre parlerà con il pubblico per spiegare il perché delle sue recenti azioni in programma anche xia lee contro becky lynch naya jacks contro raquel rodriguez shinsuke nakamura contro shat gable e infine il match tra team kodi e judgment day che assegnerà il vantaggio ai wargames e che dovrebbe essere non una sfida a fazioni complete come in passato vi ho detto ma una battaglia uno contro uno con i partecipanti stabiliti dai rispettivi schieramenti